Avvocato, adesso avrà una bella responsabilità. Vabbè, c'era da metterla in conto perché se si vuole giocare, tra virgolette, bisogna mettersi in gioco, quindi non si può restare dietro la scrivania o sopra la poltrona in un momento come questo. Quindi ognuno deve mettere il suo, io penso di aver messo il mio assumendomi le mie responsabilità che poi sono quelle semplicemente di esprimere una valutazione insieme ad altri componenti della Commissione sulla concluità dei progetti, quindi dipenderà pure dal tipo di progetti che ci verranno sottoposti. Da Avvocato non posso non chiederle, viste le bocciature importanti che sono arrivate prima dalla COVIS, poi dalla FGC, poi dal CONI, infine dal TAR, ci sono i presupposti per un ricorso al Consiglio di Stato? Ovviamente io non conosco le carte, i colleghi sono battuti valorosamente, hanno ottenuto una prima sospensiva, poi purtroppo hanno ottenuto un rigetto e nelle motivazioni del rigetto qualche spunto sul merito è stato fatto che non lascia grosse speranze, eventualmente insomma il ricorso al Consiglio di Stato è sempre possibile e dipenderà ovviamente dalle valutazioni che faranno i colleghi.